Salve amici bentornati nel canale. A novembre il nostro orto si presenta così, pieno di erbacce. Dobbiamo prepararlo perché prossimamente vogliamo seminare cereali, legumi e ortaggi. Il nostro orticello è piccolino e quindi non abbiamo bisogno né di alatro o d'altro. Sono circa 200 metri quadrati. Va bene anche manualmente, esattamente come lo facevano i nostri antenati. Strappiamo le erbacce direttamente dal sottosuolo manualmente. Le poniamo tutte in un luogo, anche perché ci serviranno come composto. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale amici, attivare la campanellina a tutte le notifiche, e quindi potete condividere il video tra amici e parenti. Poi andiamo a smuovere il terriccio e lo facciamo con un pico, non con la zappetta, anche perché il suolo è arido, quindi il pico entra meglio. E ci facilitiamo il lavoro. Colpo dopo colpo e avanziamo leggermente, a passetti davvero piccolissimi. Vedete? Il pico entra circa 25 centimetri nel suolo. È sufficiente per la nostra semina. E smuoviamo il terreno accuratamente. Vogliamo assicurarci alimenti per il prossimo anno, e quindi dobbiamo fare un buon lavoro. Ovvero terreno preparato e composto organico. Dopo circa tre ore e mezza del nostro lavoro, il terreno è bello smosso. Adesso è pronto per la semina di cereali, legumi e ortaggi. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!